ok ecco la quanta roba che abbiamo messo ma dai allora uno due e tre speriamo veramente non moriremo capite il demone e io muoio nevica però speriamo che ci sia il demone speriamo no guardi è qua ecco da noi vede la nuvoletta ok non possiamo fare nessun obiettivo glielo dico vabbè trova la prova di 20 per ormai collettore si scatta la foto forse si ma sfugge a fantasma proprio no ok mi segua come sempre non è carriera mia se la seguo si ricorda il mio osso yes prima apriamo qua e qua non c'è osso se funziona poi questo coso io apro lei chiude facciamo un lavoro di squadra io ho visto la nuvoletta ah sì è anche qua gemelli 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 subito questo non suona qua nemmeno no almeno quella nuvoletta non c'è sì c'è c'è invece c'è i gemelli anche qui c'è ci sta seguendo sta nuvoletta però ecco avevo detto è guarda la guarda la lì guarda la lì ma questa qua è la banshee cioè ok comunque l'avevo detto che poteva essere tipo il demone che si presentava subito wow ok mettiamo la telecamera qui arriva pure a 5 eh arriva pure a 5 te lo dico va bene aspetti che metto la telecamera qui e poi scappiamo non mi dica così per favore e non si sa mai insomma si è presentata in modo abbastanza il ruento il ruento è sì allora questo diventa 5 a livello 5 sì sì sicuro automatico guarda guarda abbiamo già fatto due obiettivi perché lei ha scattato la foto ma bravissima a meno due vamo ok ottimo le sferre di luce dovrebbero vedersi però eh se ci fossero sì adesso mettiamo il dots però allora però scusami un attimo se fosse la banshee se fosse la banshee e cavoli si è fatta una cantata la violetta sfera di luce e puntatore dots quindi adesso andiamo a mettere sul puntatore dots esatto e io mi porto pure gli sparaflescetti così se lei porta il sale poi proviamo eh prima di ogni cosa mi sa che è meglio che ci dice che dici sì dai meglio better safe than sorry prevenire è meglio che curare esatto che mi porto il sale allora io porto sì 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 così facciamo vediamo già se possiamo andare sulla banshee oppure se dobbiamo all'osso non tutto questo non abbiamo trovato però tanto siamo qua adesso controlliamo dove era il gabbicesso allora mettiamo il dots qui subito ok e poi vediamo dove ha messo il sale a ecco dai ma qua infatti ripresentati dove ti sei presentata la prima volta su io intanto vedo se il bagno c'è yes ah len ma qui però abbiamo della roba fuori posto anche lì vabbè vediamo intanto se se si presenta qui un attimo dai su secondo me dobbiamo mettere perché perché più che altro perché il l'emf sparaflesciava qui però è anche vero che si è manifestata qui per forza allora usciamo un attimo andiamo a prendere un'altra la telesferica va tanto per sicurezza che no ma ho mollato giù gli sparaflescetti ma va bene il fumo vuole qua si è un po dappertutto sta nuvoletta stasera va bene prendo anche il termometro già che ci sono che è un altro di questi così almeno questo ferie di luce ancora non ne vedo però no prendiamo un'altra telecamera la prendo io la riazziamo davanti a quella tenda alla tendopoli la aspetta ah no non posso prendere nient'altro va beh che quindi qua dici no no io la mettere davanti alla tenda davanti alla tenda rossa ok c'è una padella di velta non so se è per confonderci quella di solito è sempre lì eh ah ecco vedi che è passata sul sale mannaggia aspetta passata si si dov'è che ho messo gli sparaflescetti non credo che si vedano più però no 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 non si vedo niente se passasse anche su questo però ah stavi qua stavi qua allora ok 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 beh almeno è passata qui dai nel dots non passi eh magari ci passa dopo quando vediamo il termometro oh ha acceso qualcosa si cosa ha acceso non so dov'è di là nella tenda forse no e dove cavolo sto vabbè andiamo a vedere va non rischiamo non rischiamo mamma mia una corsa mamma mia no no bisogna mettere bisogna mettere il il trespolo che li ha presi 42 che poi questo è il trespolo a 360 gradi è quello che poi possiamo girare e vedere allora questa è quella che ho messo io eh però effettivamente abbiamo il trespolo a 360 gradi dovremmo metterlo ma fatti che cretine vabbè dai adesso lo mettiamo si mettiamo le due una una è cascato il trespolo guarda la sanità non possiamo entrare così no assolutamente aspetta prendo un altro trespolo io sì sì più trespoli ci sono meglio mi sa che questa è l'ultima volta che possiamo entrare eh sì ah eh sì nella tenda vedi che c'ho ragione è quello che ti ho detto che ha acceso il ma allora scusa ma non è che sono i gemelli ma come come l'ha acceso che eh beh questo lo mettiamo qua ma il trespolo dove ho messo eh forse l'ha perso per strada ma vabbè ma allora proverai a mettere un dots di qua vedi che ha mandato via pure la padella è anche la scarpa guarda ci si attirano sta tirando il mondo sta tirando il mondo ok allora vediamo se ci sono le impronte dovremmo riprovare col sale ma a questo punto non so se possiamo entrare di nuovo ah ok ah mannaggia vabbè andiamo a vedere eh non abbiamo manco una prova terribile sta cosa ecco dove è lasciato il trespolo ma io sono io vabbè aspetti che giro ruoto non vedo sfere eh no ma non si può fermare dopo che l'hai azionata eh non possiamo manco rientrare perché donnamo così ma manca un quinto livello qui sul coso niente qui che dice mi ha lanciato questo abbiamo trovato i resti il fantasma ha calpestato il sale non c'è una ceppa di niente ma io dunque se togliessimo il puntatore doze e la sfera di luce eh i gemelli rimarrebbero effettivamente io non so veramente mi viene perché brontolo nel buio proprio brontolo ecco è passata è passata nel razzo è passata maledetta finalmente è una sola il vretto non è va bene oh ma in tutto questo non ci siamo non ci siamo ricordati di di mettere il libro eh no però è anche vero che se fosse la Banshee eh non servirebbe il libro no no non serve ehm ultravioletto eventualmente la Banshee era e Spirit Box no cos'era? no la Banshee era EMF no ultravioletto sfera e puntatore doze anche la sfera eh no la sfera non l'abbiamo proprio vista hai visto com'è passata così con nonchalance poi eh la telecamera che ho messo io che è rivolta verso la tenda la tenda quindi è lì davanti adesso che giro fa scusa ma secondo me è nella tenda e poi fuori dalla tenda dove l'abbiamo vista dall'altra parte la prima volta eh sì però se ci fossero sfera secondo me sarebbero qui eh ma pensa a te vediamo questo è sempre fuori dalla tenda è l'altra quella che ruota no ecco così si è fermata vedi no guardala guardala sta nella tenda sta ruotando io vedo un'altra cosa io vedo tutta un'altra cosa però comunque se ci fossero le sfere però sfere non ci sono come siamo messi mamma mia che palle però vediamo un po' un attimo se viene qua il sorri ha calpestato il sale eh perché a questo punto sono indecisa tra i gemelli e la Banshee perché porca miseria ha fatto proprio una cantata che andava a Sanremo tra un po' ah beh mettiamo la Banshee e via oh i gemelli che c'hanno eh i gemelli potrebbero essere ah no no i gemelli sono andati via con col puntatore Doz effettivamente eh 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 e allora sì dai allora potrebbe essere la Banshee a questo punto tanto ci fregherà però io non rientrerei perché sinceramente non ho voglia di morire ah no sono troppo bassi tutta sta roba chi ce lo fa fare se venisse fuori anche una sfera di luce sarebbe anche più bello cioè io vedo lo schermo con tutte le ditate sopra secondo me è stata lei ma sì perché l'ho vista che mangiava il sandwich prima ma senta cioè la pausa c'è e quindi io mangio lo so però sa come sono i nostri colleghi poi lasciamo lo schermo sporco a parte il fatto che io vorrei far firmare una petizione che ognuno si tiene il suo furgone perché non ho capito perché il nostro furgone devono usarlo anche gli altri adesso infatti sono d'accordo sono d'accordo che io ho trovato le cose così in disordine perché c'è c'è Phil che non rimette mai le cose a posto glielo dico però guarda quanti passaggi che fa però quando ci siamo noi non passa dice che potrebbe essere l'ombra non ti pare strano che qui passa passa di continuo ma dove perché l'ha vista altre volte io non l'ho più vista sta continuamente continuamente passando nel dots sì e allora il gorio perché il gorio si mostra solo la telecamera perché si ricordi che ogni volta che sbagliamo a scegliere perché di solito il gorio io non l'ho più vista nel dots dica pronto? che è successo? no niente dico siccome sta passando continuamente nel dots eh no le dico io non l'ho più vista io l'ho vista molte altre volte e siccome quando stiamo lì non è mai passata sarà il gorio non lo so a questo punto non lo so che c'ha il gorio? no dico il gorio di solito si mostra solo la telecamera nel dots non lo so senta facciamo mettiamo qualcosa cosa sta facendo? perché praticamente il gorio ha l'MF livello 5 il travioletto e il puntatore d'osso ah per quello vuole mettere il gorio perché c'ha l'MF livello 5 aspetti che vado a guardare ma questo è un quadrato perfetto eh no ma è basso sta a livello 5 deve stare boh vabbè mettiamo la Banshee dai mettiamo la Banshee si io metto la Banshee va bene aspetta eh Banshee si ho messo eh io volevo andare con la spirit box ma non è possibile farlo siamo troppo bassi te le tiro tutto quello che ho tenga ma perché tu riesci a tirare la roba e io no io boh veramente non riesci a tirarla no ho questa capacità incredibile il phantom mamma mia si vabbè però effettivamente sa da che cosa dovevamo capirlo che quando gli ha fatto la foto è scomparso subito ma no io l'ho fatta più di una stavo sempre là ah si eh si la bimbetta e allora non è sparito che cazzo è la prima cosa del phantom è che scappa quando gli fai la foto no no non è sparita grazie a tutti grazie a tutti